Una sfida ambiziosa dell'Istituto Zoo Profilattico dell'Abruzzo e del Molise e del Parco Nazionale della Maiella per una collaborazione che mette insieme le buone pratiche, la lunga esperienza nel campo epidemiologico e i sistemi diagnostici dell'Istituto e le possibilità che derivano da un laboratorio a cielo aperto come quello del Parco, nel quale la conoscenza delle dinamiche ecologiche che regolano lo stato di salute degli animali selvatici è da anni supportata da un intenso lavoro di campo e da collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali di recente realizzata da parte del Wildlife Research Center del PNM. In questo caso si tratta di un accordo che tende ad ampliare un settore di conoscenze molto specifico e che riguarda la fauna selvatica e tutto il potenziale che la fauna selvatica contiene che può esprimere degli effetti nell'interazione con la fauna domestica e con l'uomo stesso. Quindi siamo in una linea di studio per vigilare sulla salute umana attraverso una migliore conoscenza della fauna selvatica. In virtù delle rispettive aree di attività e competenze l'accordo mira lo sviluppo di servizi innovativi e di attività di ricerca in ambito eco epidemiologico e gestionale sulla fauna selvatica. Si lavorerà per costruire un modello sperimentale di messa a sistema dei dati sanitari con elementi di ecologia delle popolazioni oggetto della servellianza epidemiologica. Nel tempo non si è perso niente. Quello che è successo con la pandemia e quello che sta succedendo nell'evoluzione degli allevamenti ci dice che è importante avere delle informazioni dal punto di vista epidemiologico soprattutto in ambienti aperti, cioè negli ambienti selvatici. Anche l'OIA, l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, insiste sull'attenzione rispetto alla vita selvatica per ottenere informazioni più puntuali e più importanti.